Per fare le foto anche a noi però, dopo quente giornale. Io? Io? Sì, sì, aiuto. Guardate davanti, guardate davanti. Aspetta perché le balcanate non si spedano. Ah, aspetta, le facciamo dopo, eh, tutti insieme. Se c'hai un tavolo, se c'hai un tavolo, le mettiamo lì. Un tavolo, non c'è, un tavolo, non c'è. Ecco. Fa portare quelli due là? Fa portare anche qui, non c'è per il mio. Spetta, spetta, spetta. Annà, fa. Spetta, spetta, spetta. Un'altra cosa. Spetta, spetta. Spetta, spetta, spetta. Penzo di merda! I miei coni stai qui davanti! Oh, pane se penso di merda! Oh, pane se penso di merda! Come non rimarino, oh, pane se penso di merda! Oh, pane se penso di merda! Oh, pane se penso di merda! Poi in Pallese questa popola vita, aiuto con i Pallia! Accentito!